Torna con una serie di eventi la giornata del volontariato delle associazioni Montevarchine. Nel cuore del Valdarno è il nome dell'iniziativa in programma sabato 13 maggio nel centro della città di Benedetto, dalle 15.30 alle 20.00, lunga la serie di appuntamenti legata alla presenza di chi impiega al proprio tempo a favore degli altri. Questa giornata a che cosa serve? Serve a far capire che tante persone sono a disposizione per gli altri, per poter aiutare una socializzazione, per poter aiutare a stare insieme. E proprio per questo obiettivo abbiamo mescolato tante associazioni, tante iniziative, tante forme dello stare insieme fino a fine giornata quando in piazza Varchi ci sarà appunto, ospite graditissimo, una squadra di basket perché lo sport non è altro che il miglior modo di fare volontariato e sociale insieme. Presente anche il forum della cooperazione della pace. Non è una cosa difficile la giornata, il pomeriggio di sabato 13 perché il forum dell'operazione della pace si può paragonare un po' alle cellule più preziosi del nostro corpo che hanno la caratteristica di avere tante protuberanze al loro esterno perché hanno bisogno di essere in contatto continuo con gli altri. Le cellule sono le associazioni del forum, le protuberanze o le mani, come si vuole dire, sono in contatto con gli altri.